Riviare la fusione con Pescara per un periodo congruo e coerente con le attività ancora da svolgere. La richiesta rivolta alla Regione Abruzzo dai comuni di Montesilvano e Spoltore, che hanno approvato il 5 maggio le rispettive delibere di giunta sull'istituzione della nuova Pescara. Si tratta di due delibere identiche con le quali i due comuni chiedono di prorogare la data di fusione con Pescara. I sindaci Ottavio De Martinis e Luciano Di Lorito affermano che il rinvio è necessario per completare in maniera meticolosa il difficile percorso amministrativo da seguire. Affinché si faccia un lavoro che possa intanto gratificare tutti i territori, ma soprattutto che possa assicurare ai cittadini e ai territori stessi il meglio. Diversamente si rischierebbe di fare cose in fretta con un documento per il futuro delle nostre città. Noi non lo vogliamo, è il motivo per il quale abbiamo, in delibera di giunta, ha riportato tutte le difficoltà che ci sono state in questi anni, difficoltà evidenti perché c'è stata una pandemia, non ce lo scordiamo. Questa è un'azione che ha fatto anche Pescara, cioè una ricognizione di quelli che sono tutti gli adempimenti per far sì che si arrivi nel migliore dei modi a questa grande città. Noi, Comune di Spoltore di Montesilvano, rispetto a tutta questa serie di fasi da mettere in campo, riteniamo che il tempo a disposizione, che è il 2023 prorogabile al 2024, sia un tempo non congruo. Quindi adesso la Regione, sicuramente che è detentore della legge regionale, possa rivedere le procedure, possa mettere finalmente quei fondi previsti dalla legge regionale, quei 300 mila euro e dare seguito a questo processo di fusione. La fusione è sancita dalla legge numero 26 del 24 agosto del 2018, modificata da un emendamento approvato in Consiglio regionale a fine del 2020, che ha differito l'istituzione del nuovo ente dal 1 gennaio del 2022 al 1 gennaio del 2023. Anche i cittadini hanno detto sì alla nuova Pescara in occasione del referendum del 25 maggio del 2014 e contraria al rinvio, azione. Il segretario regionale Giulio Sottanelli e il consigliere comunale di Pescara Carlo Costantini, tra i promotori della nuova Pescara, evidenziano che non bisogna rallentare il lavoro svolto sia a livello regionale che nazionale, e che è culminato con il via libera delle commissioni, la sesta e la decima del Senato, all'emendamento proposto dal presidente della Commissione Finanze, Luciano D'Alfonso, è approvato all'unanimità, che prevede uno stanziamento di 105 milioni di euro. De Martinis e Di Lorito dicono che il finanziamento in questione non è a rischio. Qual è il tempo congruo che possa essere un anno in più, due anni in più, tre anni in più, però dobbiamo questa volta pendere il toro per le corna.